Notaio Vicentino nei guai. Nei suoi confronti la procura del Tribunale di Vicenza ha emesso un avviso di garanzia. Il notaio infatti, secondo le accuse, nell'ambito di attività di compravendita, avrebbe alterato in più occasioni le dichiarazioni ricevute dalle parti venditrici, falsificando il prezzo di compravendita, allegando copie di assegni agli atti mai incassati dalle parti. Avrebbe intenzionalmente omesso di descrivere gli stessi mezzi di pagamento negli atti.